Ciao a tutti, la Miss Mondo 2018 è una messicana per la prima volta ed è Vanessa Ponce de Leon una ragazza di 26 anni che è anche socialmente impegnata è la prima messicana a vincere il concorso di bellezza che è nato nel Regno Unito, pensate, nel 1951 e da sempre, diciamo, Miss Mondo è il rivale del Miss Universo che invece è americano ed è gestito, fino al 2015 era gestito dalla Trump Organization comunque, questa modella è stata proclamata la 68esima Reginetta durante la finale che per l'ottavo anno si è svolta a Sania, sull'isola tropicale cinese e, diciamo, Vanessa è una volontaria dell'associazione Migrantes e Nel Camino una ONG che offre assistenza umanitaria a coloro che tentano di passare il confine con gli Stati Uniti sapete che c'è questa diatriba tra Messico e Stati Uniti Trump voleva addirittura costruire un muro, non so se si costruirà il muro nonché, diciamo inoltre, è anche membro del consiglio di amministrazione di un centro di abilitazione per ragazze seconda è arrivata una thailandese, quindi anche qua particolare, una thailandese Nicolene Pichapa, una ventenne thailandese che anche essa, diciamo, comunque è impegnata studia amministrazione aziendale bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale YouTube attivando la campanella in questo modo potrai ricevere le notifiche delle live, partecipare alle live e ricevere in diretta risposta alle tue domande per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!